Hai visto che bel titolo, così proprio per aiutarla nel dibattito? No, è interessante, apre uno scorcio di discussione al quale non intendo minimamente sottrarmi. Guardi che interessante lo dice sempre il sindaco di Trieste quando contesta gli articoli del piccolo. Guardate che io ho molti punting di contatto con il sindaco di Trieste e non soltanto i suoi post su Facebook. È una rivoluzione mica da poco, no? Che il direttore del messaggero sia anche direttore del piccolo. Su questo cosa dici? È una delle difficoltà maggiori da superare? Ma io quando sono a Trieste mi metto il cappello di direttore del piccolo e quando sto a Udine quello di direttore del messaggero Veneto e credetemi non ho alcun imbarazzo. Peraltro non sono nemmeno l'unico avarino che qui sulla scena insieme a noi è bidirettore almeno tanto quanto me. E poi ho già diretto due giornali contemporaneamente. L'importante è, e adesso a parte la cedia torno veramente molto serio, l'importante è avere rispetto della propria squadra, dei lettori, delle istituzioni, del luogo dove si è. E credo che questo non mancherà, la mia storia professionale credo lo testimoni. Perché fra pochi mesi c'è il voto, eh? Oh, è bellissimo. Uno fa uno più uno. E' fantastico, è meraviglioso. Cioè, quale altra occasione c'è? Dov'è il momento in cui ci si diverte di più a Trieste? Beh, insomma, c'è la prima del Verdi che a me interessa sempre molto, ma, e ci venivo già prima, ma credo che uno dei momenti più divertenti, scoppiettanti e poi soprattutto più importanti sia la scelta del sindaco di questa città. Gli antagonisti, cioè coloro che andranno a contendere il ruolo di piazza. Quindi credo che per chi si candiderà dall'altra parte, e non sono ancora sicuro che sia stato deciso, chi si candiderà sarà comunque una campagna elettorale molto, molto complicata, fatta più di social che di incontri one to one. Qualunque sia il colore di chi amministra, non c'è dubbio che a meno di insuccessi clamorosi... Ha un vantaggio. Eh, c'è un vantaggio. Già partono vantaggiati gli uscenti di solito, specie se non hanno fatto male e se l'aria è a loro favore, come in questo caso. Se poi c'è un contesto così complicato come la pandemia, ecco, insomma, per gli ispiranti è dura.